Benvenuti su MyFootballJersey. Torniamo in Italia per vedere la maglia di una squadra storica, il Genoa, tra le poche ad aver vinto in passato dei campionati di calcio. Questa è la prima, ovviamente in edizione, fan. Grazie a tutti. La maglia è bella, tra l'altro, di una squadra con una grandissima tradizione che negli ultimi anni comunque sta vivendo tra la Serie B e la Serie A, però sicuramente una maglia storica del campionato italiano che doveva avere. Il costo, lo vedete qui sopra, molto molto basso. Tra l'altro, vi ricordo che include anche le spese di spedizione. Se volete maggiori dettagli, trovate tutti i riferimenti qua sotto, nella descrizione del video. Andate a vedere perché per i nuovi iscritti c'è anche un link col quale potrete ottenere un coupon da 5 dollari, quindi il costo di prima diventa ancora più basso. Ora vi lascio alla parte finale nella quale vedrete la vestibilità. Prima di lasciarci però ricordatevi di iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, alla prossima! Grazie! Grazie!